Innanzitutto, grazie a tutti per essere così numerosi, per essere venuti stasera. Quando sono stato al giro del mondo ho cominciato a osservare anche tanto quello che era l'Italia e la società e mi sono accorto sempre di più di come le persone si parlassero le une sopra le altre e soprattutto in televisione, nei bar, per la strada, nelle situazioni più banali e come non si prestasse ascolto alle persone. Allora, visto che la vita mi ha parlato a fare il travel blog e quindi a comunicare dei messaggi ho scelto in prima persona di mettermi in gioco, dovevo colmare questo gap sul mio CV da viaggiatore che era nel camionio di Santiago, ho scelto di farlo in silenzio per dare il messaggio a chi mi incontrava sulla strada, a chi seguiva il mio blog, di tornare all'ascolto. Come hanno accolto le persone che hai incontrato in questo modo di comunicare? Allora, sorriso e diffidenza, un mix delle due cose. Diciamo che si sbloccavano nel momento in cui mi chiedevano perché lo fai e io dico perché la gente ha smesso di ascoltare. Allora lì si scioglievano. Però all'inizio c'è stata anche molta diffidenza, non è stato semplice. Poi in Italia mi scambiavano per straniero, un po' esteticamente, un po' perché un italiano magari non si aspetta ne faccia il cammino dall'Italia. Mi scambiavano per tedesco, mi rivolgevano a parole in tedesco che non capivo. E' un viaggio iniziatico. Poi è chiaro, dipende come lo fai e credo che la cosa più importante sia partire persone e arrivare pellegrini. Non tutti ora ce la fanno perché è diventato molto, troppo mainstream, però è un viaggio che dà, che dà tantissimo e quindi andrebbero sempre, andrebbero sempre percorsi. che è conosciuto da tante persone.